Il nero è il colore più bello! Il rosa è il migliore! Cool! Fantastico! Oh no! Oh no no no! Aia Sara! Ai Jason! Wow Sara, sei tutta vestita di rosa! E tu sei tutto in nero! Il nero è il colore più bello! No, il rosa è il colore più bello! No, il nero! No, il rosa! No, il nero! Rosa! Bene, facciamo la challenge nero contro rosa! Certo! Wow, forte! Cosa? Il colore rosa? E il nero? Cosa? È tutto nero, non è rosa! Vai di là, forza! Oui! Eccomi a casa! Anch'io sono a casa! E ora lavorerò sulla mia scrivania rosa! Molto meglio! Il rosa è il migliore! Sì, il rosa è il colore migliore! Guarda la mia bella scrivania! È tutta nera! Sì, la mia scrivania è più cool! È ora di giocare con la mia sabbia! Davvero fantastica! Sara, della sabbia? Io non ce l'ho! Mi è venuta un'idea! Che cos'è? Jason! Risolviamo il cubo di Rubik! Risalto, risalto, risalto e risalto! Rasa! Che cos'è questa cosa rasa? Che cos'era quello? Ora farò uno scherzo a Jason! Con questo posso controllare il tempo! Cosa piove? Hai bisogno di un ombrello? Non funziona! Cavolo, ma che ha fatto tutto ciò? Che ha fatto Sara? Contraccambierà questo favore! Oh no! Ha iniziato a piovere! Ho bisogno di un ombrello! Sì! Ora va molto meglio! Jason! Giochiamo con la palla! Ah! Jason! Che male! Mi spiace, Sara! Devo aiutarla! Questo funzionerà! Ti aiuto, Sara! Ho bisogno di aiuto, Jason! Ok, nessun problema! Oh! È nero! Però funziona per il dolore! Perfetto, Sara! Grazie mille, Jason! E questo è per te! Grazie, Jason! Oh, wow! Wow, ha un buon profumo! E vai! E ora giocherò con la palla! Ehi, Jason! Vuoi giocare con me? Ma certo! Lancia, Sara! Prendi, Jason! Oh no! Le mie cose sono a terra! Che cosa hai fatto? Oh no! Come posso fare adesso? Forse posso usare questo! Mi dispiace tanto, Jason! Lascia che ti aiuti! Grazie, Sara! Prego, Jason! Sai una cosa, Sara! Restiamo amici! Certo! Entrambi i colori sono bellissimi! Entrambi i colori sono bellissimi! Ciao, ciao! Grazie per aver guardato! Ci vediamo! Ciao! Ciao!